Il comune si affida al professor Enrico Moscati e al commercialista Mauro Iovino per salvare l'HCS. Autorità portuale, il comitato approva il bilancio di previsione. Il segretario Giuseppe Guacci si dimette. Terminato il mio mandato. Calcio. Nella nona giornata del campionato di Serie D, il Civitavecchia pareggia 2-2 nel finale contro la Lupa Frascati grazie a una papera del portiere ospite. Bentrovati con il Tg Alto Lazio. Tragedia sulla 12 tra Viareggio e Massa. Prima lo scontro con un tir, poi un tamponamento e un'auto che centra in pieno una vettura ferma. Tutto a pochi passi dall'area di servizio verso Genova. Nello scontro a perdere la vita è stato un Civitavecchese di 32 anni, Simone Prizzi. Il ragazzo si trovava su una Peugeot 208 condotta da un concittadino di 37 anni, Emanuele Santi. Erano diretti a Milano per lavoro. A pochi metri dell'area di servizio, la vettura su cui viaggiavano ha tamponato un camion che probabilmente non si è accorto dell'urto proseguendo la marcia. Ma a sua volta la Peugeot è stata tamponata da un altro tir alla cui guida c'era un 52enne di Firenze, ma originario di Palermo. Subito dopo l'incidente il conducente sarebbe sceso dall'auto per segnalare l'incidente, quando una BMW condotta da un 54enne di calci è finita sulla Peugeot. Nell'impatto è rimasto ferito il conducente della Peugeot sceso dall'auto, mentre per Prizzi, rimasto a bordo del veicolo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono dovute intervenire tre ambulanze del 118. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il colpo del civile di chiese dall'abitacolo in cui era rimasto incastrato. Disaggi al porto nella giornata di ieri per il maltempo che si è abbattuto sulla città. Una violenta amareggiata e il vento forte fino a 45 nodi hanno messo a dura prova il lavoro degli operatori nello scalo. La Clodia ha rotto gli ormeggi ed è stata trasferita da altra banchina. La nave proveniente da Barcellona è stata costretta a posticipare di diverse ore l'attracco a causa del mare grosso. Sono state smantellate le protezioni in zona antemurale con i New Jersey gettati alcuni a mare e alcuni in banchina. Ma il problema maggiore si è verificato con la Messicora, proveniente da Cagliari. Per le condizioni meteomarine avverse, la nave con a bordo circa 190 passeggeri è stata dirottata al giglio. Per il forte vento di maestrale ed onde alte anche 5 metri, infatti, nonostante i ripetuti tentativi, il pilota di turno non è riuscito a salire a bordo. Così la nave ha proseguito verso l'argentario in attesa del miglioramento delle condizioni. Capitaneria di Porto e piloti locali hanno quindi deciso di far salire il pilota a bordo, la cui presenza è obbligatoria, direttamente nella rade di Porto Santo Stefano. Alla fine i passeggeri, piuttosto provati, sono riusciti a sbarcare con oltre 10 ore di ritardo. La nave è arrivata in Porto poco dopo le ore 21. HCS saranno consegnati domani mattina ai libri in tribunale. Poi il comune avrà 120 giorni di tempo per presentare il nuovo piano industriale. Intanto il sindaco Tidei ha nominato i due liquidatori. Si tratta del professor Enrico Moscati e del commercialista Mauro Jovino. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Le sorti di HCS saranno affidate al noto professore Enrico Moscati. È questo il nome di uno dei liquidatori della holding. A lui il sindaco Pietro Tidei si è rivolto per tentare di salvare la società dal totale fallimento. Ad affiancarlo sarà il commercialista romano Mauro Jovino che conosce molto bene la situazione delle partecipate civita vecchiesi. Ci siamo voluti affidare le migliori competenze, ha spiegato il sindaco, per non sbagliare e per ricorrere a licenziamenti di massa. Per questo abbiamo scelto Moscati, professore di diritto privato e già liquidatore in procedure di amministrazione o liquidazione di grandi imprese in crisi, ma anche Jovino, memoria storica delle nostre municipalizzate. Con i due liquidatori rimangono in carica gli amministratori unici delle SOT, mentre si farà da parte Rina Romagnoli, amministratore unico di HCS, che continuerà però ad affiancare il comune nella stesura del nuovo piano industriale con la collaborazione delle organizzazioni sindacali. Perché domani verranno consegnati ufficialmente i libri in tribunale e chiederemo al Presidente, aggiunto Tidei, di concederci tra i 60 e i 120 giorni per redigere questo piano industriale, per scongiurare il fallimento e tentare così di salvare l'azienda. E questo nonostante numeri da capogiro snocciolati di fronte a numerosi lavoratori delle municipalizzate. 242 nuove assunzioni effettuate tra il 2010 e maggio 2012, una perdita d'esercizio di oltre 12 milioni di euro ridotta a oltre 2 milioni nei primi 8 mesi del 2012 ed un debito complessivo al 31 agosto di quasi 33 milioni di euro. Sono già stato in procura e in tribunale per esporre il quadro della situazione, aggiunto Tidei, informando il procuratore capo Amendola dei 10 milioni di contributi previdenziali non pagati. Con il tribunale stiamo pensando anche di poter utilizzare il personale che andrà in cassa integrazione proprio negli uffici giudiziari. Perché rimane l'idea della cassa integrazione, dei contratti di solidarietà, dell'abbazzamento dei livelli e dei superminimi, dei licenziamenti dei dirigenti colpevoli. Due sono già stati avviati. Riduzione dei dirigenti, cancellazioni di sprechi e privilegi. Agire su norme e leggi che consentono risparmi importanti usando strumenti diversi dalla cassa integrazione che, semmai, può essere usata in termini residuali, per pochi numeri e tutti su base volontaria. Bisogna partire da qui, secondo le organizzazioni sindacali territoriali, per salvare municipalizzate e lavoratori. Perché il futuro che si prospetta, dopo aver visionato i documenti consegnati dall'amministrazione, è a dir poco catastrofico. Una situazione, scrivono, che rischia di essere il preludio del default non solo delle municipalizzate, bensì dell'intero comune di Civitavecchia, con conseguenze catastrofiche per l'occupazione, i diritti dei lavoratori e per l'intera cittadinanza. Ed è proprio su questo che i sindacati hanno deciso di non sottrarsi a un confronto finalizzato a risanamento, alla riorganizzazione e al rilancio dei servizi locali, con l'obiettivo di mantenere il carattere pubblico e di salvaguardare l'occupazione. E i sindacati rassicurano i lavoratori ogni eventuale sottoscrizione di accordo, indispensabile per l'attivazione di qualsiasi strumento straordinario, sarà vincolata al loro mandato e al loro pronunciamento. Entro la prossima settimana, le assemblee. Numero legale tenuto in piedi dalla presenza del consigliere d'opposizione Andrea Pierfederici, dopo la discussione sulla mozione presentata dal consigliere Nunzi, che chiedeva delucidazioni al primo cittadino sui piani di zona, ancora non inviate alla regione, la massima assise cittadina si sarebbe dovuta sciogliere a causa dell'uscita dai banchi dell'opposizione. Niente numero legale, ma a consentire che i lavori procedessero è stato il consigliere Andrea Pierfederici, fermo al suo posto. Gesto che ha portato all'approvazione dei fondi provinciali per l'adeguamento all'ecocentro comunale e al trasferimento gratuito di 67 alloggi di proprietà dello Stato al comune di Civitavecchia. Un atto, quello di Pierfederici, elogiato dal sindaco Tidei, che ha bacchettato la minoranza tacciandola di vigliaccheria. E se in minoranza ormai la spaccatura sembra quasi certa, lo stesso si può dire della maggioranza, Screzio, Tassel e il resto della maggioranza sui piani di zona. Mentre il primo infatti chiede il congelamento dei piani in questione in autotutela, il sindaco sembrerebbe intenzionato ad aprire un tavolo di studio a tal proposito per poi trasmetterli in regione. Si è dimesso dall'incarico di segretario generale dell'autorità portuale Giuseppe Guacci. Il mio compito è terminato. C'è stato un problema con il servizio? Come dicevamo si è dimesso dall'incarico di segretario generale dell'autorità portuale Giuseppe Guacci e lo ha fatto questa mattina ufficializzando la decisione già anticipata al presidente Pasqualino Monti nel corso del comitato portuale. Sentiamo i dettagli nel servizio. Il mio compito è terminato. Lo era già qualche mese fa ma insieme al presidente Monti abbiamo deciso di aspettare l'approvazione del bilancio. Al comitato portuale che tre anni fa lo aveva votato all'unanimità Giuseppe Guacci ha annunciato le proprie dimissioni da segretario generale dell'autorità portuale. Nominato con l'ex presidente Fabio Ciani e poi rimasto con il commissariamento affidato a Fedele Nitrella, Guacci ha rimesso l'incarico perché ha spiegato la mia missione è finita. Non sono attaccato alla poltrona e sto valutando altre proposte. Certo non vado in pensione, sono nato e ho sempre vissuto nei porti e ho lavorato in uno scalo bloccato al mio arrivo e è cresciuto molto in questi anni. Ora aspetterà il presidente Monti nominare il prossimo segretario generale il cui nome potrebbe essere presentato già al prossimo comitato portuale del 6 novembre prossimo. Ma ora si sa soltanto che non ci allontaneremo da qui, ha annunciato Monti, sarà un professionista già noto a Molo Vespucci. Nel corso del comitato è stato approvato il bilancio di previsione 2013 con lo scalo pronto a crescere ancora di più il prossimo anno puntando sulle merci, sull'attivazione di nuovi collegamenti e sulle nuove infrastrutture dalla Darsena Traghetti con le prime due banchine pronte a giugno e con il nuovo Marina Yachting. Il sindaco Tidei ha confermato infine la volontà del Pincio di garantire massima collaborazione all'autority. Regole certe, chiare e trasparenti. Questi gli elementi che compongono la nuova carta dei servizi proposta dal presidente dell'ATER Gino Vinaccia, dal direttore generale Antonio Sperandio ed approvata dal CDA durante l'ultima seduta. Una carta rivolta soprattutto ai cittadini, spiega il presidente Gino Vinaccia, in cui sono descritte le caratteristiche dei servizi offerti dall'azienda ed in cui sono individuati i diritti e i doveri sia dell'ATER che degli inquilini. Appositi capitoli sono dedicati ai diritti e ai doveri degli utenti e alla qualità del servizio che l'ATER deve assicurare, con particolare riferimento alla gestione dei reclami per pratiche inerenti agli alloggi. Particolare importanza, diare il presidente Vinaccia, riveste anche la sezione 5, in cui sono indicate le procedure amministrative per l'assegnazione degli alloggi. Nello specifico vengono suddivise le competenze che la normativa vigente conferisce al comune e all'ATER, punto sul quale è veramente necessaria la massima chiarezza per fornire all'utente un quadro che sia il più chiaro possibile, soprattutto con riguardo ai passaggi da seguire nelle richieste di assegnazione. Torna il 12 dicembre l'appuntamento con la musica etnica invernale alla sua quinta edizione. Ancora una volta a promuovere l'iniziativa sarà il cantiere della musica, con la preziosa collaborazione della fondazione Caricib, ma questa edizione sarà caratterizzata da un'importante novità. La consegna di tre premi da parte del pubblico, come sentiamo nelle interviste. Quinta edizione per la musica etnica invernale, un'edizione sicuramente importante e sicuramente ricca di novità. La novità fondamentale sta nel fatto che, come abbiamo già accennato durante quest'estate, avremo un premio, il premio del decennale, che è un premio nazionale dedicato ai musicisti che durante questi dieci anni si sono avvicendati sul nostro palco. Abbiamo fatto una prima scrematura. La particolarità del premio, che praticamente il 12 dicembre ci sarà, oltre il concerto a cui tu accennavi anche la premiazione, la particolarità del premio è che la votazione effettiva la fa il pubblico. Anzi, vorrei invitare proprio i civili e le chiesi, che sempre hanno affollato il discorso della musica etnica, tanto quella estiva quanto quella invernale, a partecipare in questo senso. Saremo l'unico premio nazionale per la musica etnica, votato interamente nel pubblico cittadino, in questo caso di Civitarecchia. Si può andare sul nostro sito www.ilcantiaredellamusica.org e mandare una mail, perché poi da questa mail ovviamente faremo una classifica e andremo a premiare i primi tre, attraverso tre categorie. Quinta edizione per la musica etnica, una rassegna che ha l'ambizione di crescere sempre di più. Veramente è cresciuta, perché se lei pensa, fra dieci anni fa, quando cominciamo, su proposta devo dire dell'assessore tedesco, a inaugurare questa manifestazione a Forte Michelangelo, con molte dubbi e perplessità chiari anche per l'inesperienza che veniva dalla fondazione in questo tipo di attività e poi era proprio all'inizio della propria attività. La manifestazione è cresciuta moltissimo, addirittura dopo cinque anni ha cominciato a essere anche manifestazione invernale e si è servita sempre dei migliori complessi sia a livello nazionale che a livello internazionale. Quindi ritengo che ormai sia veramente cresciuta, se mi ha consentito il termine, in maniera tale da poter vedere sempre un maggiore interesse non solo da parte della città, ma soprattutto da parte di altre istituzioni che in maniera sinergica possano poi contribuire a far diventare questo un feste importante, ripeto, che possa essere inteso a livello internazionale, non solo nazionale, perché ci vediamo che ha questa prerogativa anche geografica del Mediterraneo e dobbiamo approfittare dell'esperienza che è stata fatta anche grazie al cantiere della musica che chiaramente nei dieci anni è sempre stato presente, affinché sempre di più si conosca questo tipo di musica etnica che ormai è diventata parte della nostra cultura. Bene, adesso lasciamo spazio alla pubblicità e ci vediamo subito dopo con la pagina comprensoriale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.